Lo sai che aspetti un figlio? Certo che lo so. Al corso di yoga preparto mi chiamano una ragazza madre. Scusa, ma quando fai un corso di yoga preparto? Con l'assestamento ai vertici del box office italiano nelle ultime due settimane di programmazione, il film La Cena di Natale si appresta a diventare campione di incassi come il precedente, trascinato anche da un gran numero di estimatori del libro da cui il film è tratto l'uscita dell'opera è stata accompagnata da un tour promozionale che ha toccato la Puglia per ovvi motivi di ambientazione polignano a mare, ma anche Brindisi, dove tra fan, intrepida attesa, giornalisti, cinefili e detti ai lavori, il maxicinema Andromeda ha ospitato lo scorso venerdì 25 novembre la presentazione del film. In uscita in tutto lo stivale, a partire dal giorno precedente, sequel del fortunato lungometraggio Io che amo solo te, entrambi ispirati agli omonimi best-seller scritti dall'autore piemontese Luca Bianchini. Nell'ultisala del capoluogo atriatico, prima tappa cinematografica del tour pugliese in esclusiva per la provincia di Brindisi, sono quindi arrivati gli attori Laura Chiatti, Riccardo Scamarcio e Uccio De Santis, accompagnati dalla regista Marco Ponti, dalla giornalista Rai Cinema Carlo Gentile, presentati da Nicolo Russo. Tra loro anche Luca Bianchini che ha fatto il suo ingresso nella sala di proiezione per un saluto agli spettatori. Sono felice, la Puglia ci vuole bene, non solo la Puglia, e questo credo che sia il segreto di questa storia, che è una storia molto pugliese ma in realtà in cui si sono ritrovati tutti, perché poi davanti a tavola noi italiani siamo un po' tutti uguali, soprattutto in occasioni importanti come il Natale, dove nel momento in cui si fa il punto della propria vita sembra che tutto vada bene e invece vengono fuori tutte le magagne e poi qua è particolarmente. Velocemente, ci ripeti qual è l'aneddoto che ha fatto nascere la cena di Natale? La cena di Natale è nata perché, grazie a Marco Ponti che è regista del film, perché io ho parlato di Io che amo solo te, di Ninella, Don Mimì, Chiara, Damiano, questi personaggi così a lungo in giro per tutta l'Italia ed erano così parte della vita dei lettori, che erano 300.000, che Ponti mi ha detto ma perché non fai una cena di Natale dove li metti tutti insieme seduti? E quindi ho detto, sai che c'è? Ho chiamato la Mondadori e ho mentito, ho detto che avevo già scritto 10 capitoli perché era settembre e ovviamente la cena di Natale non la puoi far uscire tipo a giugno. E ho mentito, ho lavorato. Però la giri a giugno, la giri a giugno è napolignano piena di neve per fortuna, il tempo era uccioso, perché sta uccio. Io sono contento che i libri di Luca Bianchini possano diventare dei film, perché altrimenti o mi apro io anche una libreria e farei soldi con lui, oppure facendo il film insomma sono coinvolto anch'io. Quindi grazie. Tu sei una pietra miliare di questo film, sei un sacerdote. No, no, il sacerdote è importante. Il sacerdote. È importante nel paese perché è colui che sa tutto, di solito sa tutto, perché scopro che, anche io ho scoperto guardando il film, che c'è un qualcosa, un particolare che è sfuggito anche a Don Gianni in questo film. Tutta una sorpresa, tutto da vedere e da gustare. Il film richiama perfettamente il libro, ma con l'aggiunta di qualche elemento in più per esigenze di sceneggiatura e celebra amori, tradimenti e litigi in un turbinio di situazioni limite, come spiegato dal regista Marco Ponti. L'obiettivo nostro è tentare di raccontare bene una storia che è basata su delle emozioni. Emozioni che sono le emozioni romantiche, le emozioni comiche e un mix molto molto delicato. Questo è l'obiettivo nostro. Se poi il pubblico ci segue, è quello un bel privilegio. Con Luca Bianchini collaboriamo da sempre, da che ci conosciamo i tempi dell'università. Per cui ci scambiamo le idee, i progetti, prima ancora che sappiamo che cosa possano diventare. Adesso il percorso è diventato anche seriamente professionale e mi sembra molto difficile che ritorniamo a essere solo, tra virgolette, amici. Sicuramente ci saranno degli episodi in futuro. Italian International Film di Fulvio e Federica Lucisano, in collaborazione con Rai Cinema, firmano la produzione di un film attesissimo dai fan, dai libri e allo stesso tempo da quanti, senza leggere l'opera letteraria, hanno apprezzato la prima pellicola che esattamente un anno fa sbancò il botteghino e che ha rivisto davanti alla macchina da presa quasi tutti gli stessi attori della precedente con una Laura Chiatti che per interpretare Chiara Incinta non ha dovuto faticare perché era realmente in attesa del suo secondo figlio. È stata un'esperienza doppiamente emozionante perché avevo il mio piccolo nella pancia che chiaramente mi ha aiutato a calarmi nella parte. In questo film ritroviamo gli stessi personaggi con tante novità che si ritroveranno all'interno della cena di Natale. L'anno scorso non c'eri qui a Brindisi, allora te lo chiediamo quest'anno aver fatto questo film cosa ha significato per te? Beh, è stato molto bello perché comunque c'era in previsione il seguito di Io chiamo solo te e ero un po' preoccupata appunto perché avevo il pancione invece nel libro credo che Chiara fosse incinta di due settimane e quindi abbiamo posticipato tutto e adattato tutto insomma alla mia condizione e alla fine è andato tutto molto bene. Riccardo Scamarcio, partner della Chiatti nel film, torna quindi a vestire i panni di Damiano, personaggio che continua a fare danni sia sul lavoro dove puntualmente trascura gli insegnamenti del patriarca Don Mimi interpretato da Michele Placido sia in privato dove non riesce a resistere alla passione clandestina per Deborah, ruolo interpretato da Giulia Elettra Gorietti. Abbiamo ripreso gli stessi personaggi, il film è uno spin-off, cioè un film che sta in piedi anche se uno non ha visto l'altro per cui diciamo quelli che non hanno visto il film l'anno scorso possono tranquillamente venire quest'anno a guardare questo film e poi magari dopo a casa si vedono l'altro ecco. Ne avete visto la strada di notizia qualche barra, vi siete divertiti durante questo film? Forse più anche nel primo, eravate un po' più rilassati? No, 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 io ero, devo dire, rilassato anche nel primo. Chiaramente Laura, che è la mia partner in questo viaggio ormai, duplice viaggio, con Marco Ponti, regista, devo dire, insomma, ci conosciamo bene, ma anche con gli altri attori, con Placido mi ha diretto varie volte, abbiamo fatto film insieme, quindi sono tutte persone, stesso Marco Ponti aveva scritto la sceneggiatura di un film che avevo fatto molti anni fa, che sembrava L'Uomo Perfetto, quindi lo conoscevo da anni, diciamo Lucisano e la produttrice, sono persone che conosco da tempo, quindi anzi la scelta di rilavorare insieme nasce proprio dal fatto che c'è un feeling, ecco. Tra confessioni inattese, partenze rimandate, dichiarazioni romantiche e menù interminabili, il seguito di Io che amo solo te, immerso nel clima effervescente delle festività, regala la stessa atmosfera fatata di Polignano a mare, impreziosita in questa occasione da una inaspettata nevicata. Insomma, per la coppia protagonista, Damiano Riccardo Scamarcio e Chiara Laura Chiatti, si prospetta una dolce attesa, ma mentre lei ormai all'ottavo mese ce la mette tutta frequentando corsi per parto e sopportando le reiterate assenze del consorte, lui si dà al tradimento. Le tristi verità usciranno fuori tutte proprio in occasione della cena di Natale, organizzata dalla mamma di Damiano in casa sua, tra gag irresistibili e scoppiettanti colpi di scena. Qualcuno mi ha rubato l'anello. Sbaglio? Siamo un po' con il rosette, signorina. Mamma! Spartito! Eh? Peluche! Rispondi al cellulare, Nance, che ti vibra. Pronto, Tony! Sbaglio! 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 Sbaglio!